ah finalmente eccoci con il peggio del 2020, tutta la schifezza di quest'anno anche qua sicuramente non ci sono tutti i film, cercherò di far durare questo video il meno possibile perché se ho diviso in due parti il video del meglio non è per colpa mia, è per colpa di youtube che non me lo lasciava caricare insomma anche in questa classifica qua le regole sono sempre le stesse ovviamente ci saranno molti film di quest'anno ma anche una piccola parte dei film usciti l'anno scorso nel 2019 e che io ho visto però nel 2020, ovviamente non li ho visti tutti, anche questo qua e direi di procedere veloce perché sarà un video complicatissimo da fare dato lo standard dei film che tratteremo allora in totale i film saranno 23, quindi al 23esimo posto troviamo Panama Papers allora perché Steven Soderbergh mi fa un film così? Steven Soderbergh è un buonissimo regista, ha fatto la trilogia degli Oceans ha fatto Traffic, Erin Brokowicz, un sacco di film che sono entrati un pochino nell'immaginario collettivo ed è un regista che a me piace perché fa tantissimi film su scandali finanziari e con questo film qua diciamo che non è un film pessimo però mi ha deluso ampiamente perché la trama è abbastanza complicata se posso dire non è efficace, è abbastanza noioso nonostante duri poco e quando il pezzo in cui Meryl Streep va da un set all'altro di film mi ha fatto venire la pelle d'occo, è terribile poi abbiamo Project Power, un altro originale Netflix e qua c'è un problema, oltre ad essere abbastanza disastroso come film è di una mediocrità assoluta, io non mi ricordo già più niente di questo film mi ricordo che c'era Jamie Foxx, aveva una trama solida come un pezzetto di carta messo alla bufera dei venti e davvero brutto ecco sì, la trama è un disastro totale anche non mi ricordo più come fosse la regia ma non mi ricordo fosse così buona così ben architettata, insomma non è un buon film 21esimo posto per Piccole Donne di Greta Gerwig un film non brutto nella sua forma ma da cui io mi sarei aspettato veramente veramente molto 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 di più perché è un film noioso, con una trama scritta malissimo un film che fa salti temporali a casaccio è davvero un film che mi ha deluso tantissimo con delle attrici brave c'era la Ronan che faceva Joe March poi c'era quella che fa Hermione Granger, Emma Watson quella che ha fatto Hereditary insomma sono tutte attrici brave una regia che con la regia non mi è piaciuta per niente e la fotografia accenno speciale perché è fatta bene si vede che non è un film malfatto però è il ritmo, la sceneggiatura e la regia che non mi sono piaciuti e via col venti perché in ventesima posizione troviamo Tross 2 Tross 2 non è un film brutto, probabilmente brutto però essendo cartone animato mi aspettavo qualcosa di più educativo forse non dico che sia un cartone diseducativo per la carità però ha un messaggio troppo moderno trasmette troppa musica moderna e ostacola la musica più vecchia come il rock che ormai purtroppo non si ascolta più questo ti dice praticamente ascolta la musica moderna ascolta il pop perché gli eroi bravi sono dalla parte del pop mentre tutti i cattivi sono dalla parte del rock che è una cosa profondamente sbagliata secondo me senza nulla togliere la musica moderna che per la carità a me non piace per niente però già che tutta la gente ormai ascolta trap, rap, quei generi lì cioè di riscoprite un po' la musica vecchia che ascoltavano i vostri genitori non ascoltate sempre la stessa musica rap o trap e invece fa il contrario e sta cosa non è che mi sia piaciuta e insomma anche da questo mi aspettavo un po' di più ci sono qualche scambio di battuta un po' cretino insomma niente di più però è stato il fatto del messaggio che mi ha fatto un po' storcere al naso diciannovesimo posto per Rebecca perché tocchi Rebecca la prima moglie di Hitchcock? questo film ha una delle trame più insulse di tutti, di tutto quest'anno perché non tanto perché sia una trama terribile perché non è che, cioè, ha poco di bello ma quei piccolissimi cambiamenti che ha rispetto al film originale di Hitchcock del 40 sono delle cavolate cioè il film è praticamente uguale e quei piccoli cambiamenti che fa sono delle idee veramente poco innovative brutte e riuscite male è un film scialbo, piatto l'unica cosa di buono è la fotografia veramente molto bella invece qua ho deciso di fare una cosa che non avevo mai fatto ovvero fare un post ex sequo qui nel diciannovesimo posto pari merito a Rebecca troviamo La straordinaria vita di David Copperfield un film straordinariamente brutto noiosissimo un film terribilmente noioso inglesissimo questa è stata l'unica cosa che mi è piaciuta del film troppo diretto alla Wes Anderson fotografia troppo alla Wes Anderson troppo pastellata mentre Wes Anderson questo tipo di fotografia con il pastello la sa fare sto vi armando gli annucci no, non riesce quindi è un film noiosissimo veramente inutile perché tutti ne avevamo bisogno l'ennesimo remix, remake quello che è boh, basta, brutto poi invece al diciottesimo posto c'è Tyler Rake che disastro sebbene il film in certi punti può anche divertire è scritto con le chiappe cioè la profondità dei personaggi è pari a un foglio di carta cioè è un film che tutto spara tutto spara macchine bruciano esplosioni di via esplosioni di là gente che muore di qua gente che muore di là insomma a me non è piaciuto perché a me non piacciono i film d'azione però anche a chi piacciono è risultato comunque un film extra dimenticabile dove Hemsworth è solo un bamboccio e scritto veramente con le chiappe perché cioè è impossibile scrivere dei film così poi al diciottesimo posto ho voluto mettere forse uno dei film più tamarri dell'anno ovvero La Belva di Ludovico Di Martino quanto è dimenticabile questo film la prima volta che l'ho visto non mi ha dispiaciuto tantissimo poi la seconda mamma mia mamma mia che è abbastanza disastroso come film dimenticabile come non so che cosa una trama di una bruttissima una trama inutile completamente sto qua omone un film all'insegna del macismo totale scritto anche qua con una profondità assente totalmente per un risultato che mi ha fatto proprio storce del naso un altro exequo al diciassettesimo posto Tiger Tail di Alan Young io pensavo che questo regista facesse qualcosa di interessante il soggetto era estremamente interessante invece ha fatto un film che è un trituramento di Maroni incredibile noioso come poche cose al mondo di cui si salva la parte iniziale e poi cade in un vortice di noiosità veramente un film abbastanza cioè forse meno brutto di altri film in questa classifica però dal momento che avevo alte aspettative cioè aspettative abbastanza alte mi esilitavo molto di più sono stato estremamente deluso quindi lo metto abbastanza in alto come classifica perché è abbastanza brutto poi al sedicesimo posto troviamo un altro cartone animato dove è il mio corpo un film cortissimo che non mi è per niente piaciuto noioso queste atmosfere brutte l'unica cosa bella è l'animazione l'animazione sinceramente mi aspettavo anche di più però non è male è questo 2D un po' strano come film però mi ha lasciato molto a desiderare perché è film troppo maturo per essere un un cartone animato perché magari non so tratta delle tematiche un po' film troppo adulte per essere un cartone animato poi magari non l'ho capito è perché la maggior parte della gente gli piace questo film però si comincia ad entrare nelle posizioni dei film veramente brutti e si inizia con Enola Holmes un film davvero sbagliato con questa rottura della quarta parete che è qualcosa di stucchevolissimo dopo un po' inizia a romperti i marroni in una maniera incontestabile un film tutto pulitino carino bambinesco che di bello non ha proprio niente poi gli attori la scelta degli attori pessima l'attore che fa superman Henry Cavill ad interpretare Sherlock Holmes ma vabbè tralasciando quello anche questo femminismo forzato davvero brutto magari ci faccia anche la recensione perché mi ha davvero colpito malamente quattordicesimo posto per Togo un film estremamente noioso vuole essere un po' un richiamo della foresta però cade nella banalità più pura Will and the Four non è per niente non va bene per quella parte lì poi i cani fatti con la computer grafica che qua sono fatti molto in maniera più scrausa rispetto a quelli della richiamo della foresta totalmente un film che non mi è piaciuto porco cane che film del cacchio che è questo Sonic ne avevamo tutti il bisogno vero invece di trarre un film da un videogioco un po' carino con una storia interessante fai un film da sto videogioco per minorati mentali che è veramente inguardabile e poi già un film che nasce in modo proprio maligno perché era stato pubblicato il disegnino il poster di come sarebbe stato il Sonic e tutti i fan petizioni a non finire sul cambiare l'aspetto del Sonic del storriccio così umanoide e già quando è il fan a decidere cosa fare non mi va bene perché non è un film un'operazione commerciale poi c'è un Jim Carrey che fa schifo qua a me già Jim Carrey non piace come attore qua fa 200 facce a battuta che non dovrebbe fa molte più facce di quelle che dovrebbe fare e poi è un film veramente diseducativo perché alla fine la morale è desiderare la sua cameretta tutta ben fatta al telefonino non è niente di che ed è anche abbastanza noioso dodicesimo posto c'è sta schifezza Michael Bayana di Peter Berg chiamata Spencer Confidential un film che veramente terribile se ci ripenso è un film bruttissimo senza trama noiosissimo fra l'altro con una fotografia bruttissima già vista in altri 850 film d'azione tutta grigia all'inizio spenta desaturata una storia semplicemente inutile perché non c'era nessuno che aveva bisogno di questo Spencer Confidential e poi un disastro totale veramente insulso pieno di quest'azione tutto che esplode alla Michael Bay di destra poi The New Mutants di Josh Boone ho già fatto la recensione però ve ne parlo ancora un po' giusto per non mancare è un film schifoso scritto con una sceneggiatura fra le più inconsistenti dell'anno dove ci sono sti qua chiusi nell'istituto psichiatrico con una sola dottoressa che fa tutto fa i letti fa il cibo la cena il pranzo cura la gente fa di tutto di tutto lei e il film ti costringe appunto a provati a fare per lei e uccidi sti tre idioti che si mettono lì a cianciare a fare così con i poteri portare a dimensionale insomma un film schifoso e idiota un altro dei film più merdosi dell'anno è questo The Prom di Ryan Murphy con un cast corale e quant'altro che fa schifo che vuole essere solo politically correct che ha una trama che è due righe così scritte su un foglietto su un tovagliolo di carta che poi è finito sotto l'olio si è macchiato e gli sceneggiatori non ci vedevano più e quindi hanno fatto un po' a cacchio di cane e infatti si vede perché è un film girato a cacchio di cane film bruttissimo con tutti questi glitter un musical di cui le canzoni così uno arriva lì tu sei così non so al supermercato arriva lì uno ma smettila si mette a cantare a ballare mentre te sei lì a fare la spesa oh vabbè non so questo film qua è idiota inutile come è anche inutile questo Eurovision Song Contest la storia dei Fire Saga innanzitutto c'era davvero bisogno di prendere il fenomeno cioè il festival dell'Eurovision per farci addirittura un film sopra che poi è un film idiota perché c'è questo Will Ferrell che a me non piace per niente come attore che è sempre sopra le righe e non serve a nulla poi ma non so molta gente ne parla bene di questo film però io non sono riuscito a trovargli una cosa bella l'ho trovato completamente insensato una storia che è delirante di qui delirante di là con un sacco di battutine idiote insomma è proprio un brutto film e non si salva intanto senza accorgercene siamo entrati nella top 10 e proseguiamo con l'ottavo posto per Tolottolo di Checco Zalone io non so come la gente faccia ad apprezzare questo film cerca di fare satira sulla situazione dei migranti ecco che è una situazione molto delicata però cavolo non si fa satira in questo modo cioè le battute qua sono ridotte a zero e sono fatte per un pubblico di decerebrati poi i cameo di Mussolini sono state una delle cose più brutte più brutte di questo film e è debole ha una trama proprio esile non so ci sono passati con questo camion sopra alla sceneggiatura che poi con tutti i film belli che fa l'Italia proprio Tolottolo doveva essere l'incasso maggiore degli ultimi 500 mila anni italiano arriviamo nella zona dei film proprio veramente schifosi davvero dei capolavori in mani della schifezza e partiamo con Evil Eye questo film indiano registrato come un film di Bollywood quindi potete capire la qualità già che ha una sceneggiatura che sarà tipo su un fazzoletto di carta dove uno ci ha soffiato il naso dentro e quindi se la sono dimenticata poi una regia inesistente degli attori uno più cane dell'altro e tutto ciò confluisce in questo quarto potere dei film del cacchio che cerca di essere un horror cerca di spaventare con questa trama stupida con questi jumpscare del cacchio che sono veramente odiosi sapete tutti quanto amo il cinema di Gabriele Mucino uno dei peggiori registi che l'Italia ha sfornato un regista che fa urlare i propri attori che scrive delle sceneggiature piene di retorica che pensa con la sua tecnica di avvicinarsi a un Ettore Scola a un Mario Monicelli a un Dino Risi ma invece rimane solo un mestierante fasullo e con questo film dà l'ennesima conferma di quanto sia un incapace perché questo film è una schifezza vi faccio un piccolo dialogo alla Mucino che cazzo ha fatto ma dove sei andato si può sapere ma sei scema ma cosa dici sono andato al supermercato non è vero non è vero non è vero ecco questo è un dialogo alla Mucino con gli attori che urlano e con questa macchina presa a mano così che gira a cacchio di cane quindi questo film è una schifezza già per quello ma poi Mucino è giusto bravo per fare gli spot ai gelati ai biscotti a quello che vuoi non è bravo fare dei film i suoi film sono quanto di più moralista e maschilista anche perché questo film è abbastanza maschilista è anche banale banalissimo che io abbia mai visto di quest'anno rimane il fatto che gli anni più belli sono quando non escono i film di Mucino ah e poi si giunge al nostro grande amore l'amore di tutti Michael Bay con questo Six Underground conferma la sua capacità di essere uno dei peggiori registi in circolazione uno shooter mestirante senza minima capacità di girare che non rispetta i tempi cinematografici e non rispetta neanche quelle che sono le regole basilari della regia perché intanto qua gli attori sono tutti dei cani a recitare poi abbiamo la prima scena di inseguimento a Firenze che ci sono delle scene girate a Siena delle scene girate a San Gimignano delle scene a Firenze che si mixano in questa schifezza dove esplode tutto la frutta che esplode facendo il fuoco come avete visto in quell'immagine ed è uno dei film più brutti di sempre ma io ci farò una recensione fortunatamente per me siamo al quarto posto perché più parli di queste cose brutte di sti film macchi idioti più ti fa male all'anima e quindi era immancabile After 2 questa cagata enorme che il primo era tipo un libro per bambini aveva una storia così complessa così introspettiva che sembrava uno di quei libri del bambino tipo Baco Gigi che hanno il disegnone e poi le tre righe per dirti cosa vuol dire il disegnone se questo era After 1 After 2 ancora peggio si chiama After perché tu proprio non riesci ad arrivare dopo al film l'After che c'è dopo il film quindi quando si riaccendono le luci della sala tu non riesci a viverlo perché sei già morto di asfissia per eccessiva bruttezza cinematografica se il primo voleva raccontare questa storia di questi due stronzo che si prendono si ripigliano si molano si ripigliano il 2 fa ancora di peggio e decide di raccontare il nulla più assoluto aria fritta completa per un'ora e mezza di tortura di questo film sicuramente destinato a quelle tutte quelle ragazzine borghesi in piena crisi ormonale evidentemente in un film che è veramente proprio una schifezza intramontabile che non tramonterà mai che è proprio brutto come film che ha tutte le mode di tipo 50 sfumatura di cacca twilight tutte quelle schifezzuole lì ma riesce a fare anche di peggio top 3 e in terzo posto medaglia di bronzo questa schifezza di sotto il sole di Riccione se i cine panettoni stanno al periodo natalizio essi sono direttamente proporzionali ai cine cocomero che stanno al periodo estivo e questo ne è un pessimo esponente se già è un genere vuoto completamente privo di ogni crisma cinematografico questo film riesce a fare anche di peggio è un film con 800 milioni di personaggi sviluppabili in un'ora e mezza di film quindi già capite lo standard scritturale si può dire di questa schifezza cinematografica che poi cinema non è un film inconcludente idiota con delle battutine qua boh è anti cinema questo non è neanche cinema è anti film che poi stiamo parlando di una pellicola di un'elevetezza culturale pari a un qualsiasi Wells o a un Bergman sicuramente ovviamente sto dicendo un sacco di menate sto realmente valutando l'opzione di tagliarmi le vene parlando di questi film però fortunatamente siamo quasi alla fine e al secondo posto troviamo infatti gli infedeli di questo Stefano Mordini boh non so come si sia capaci a fare un film del genere una delle sceneggiature più idiote dell'anno veramente inutile come film ma cioè non riesco a descrivere il livello di bruttezza di questo film perché è parodia della schifezza non remake di un film già brutto di suo però boh questo film non ha nulla magari ci farò anche la recensione perché sono curioso di parlarne un po' più a fondo e chi poteva ricevere la medaglia d'oro se non lui dalla Polonia con furore 365 giorni un film che rende chic e bella una roba idiota e inutile come lo stupro ecco questa è la morale la bellissima morale si fa per dire perché è una morale totalmente priva di senso alla base di questo 365 giorni dove ogni attore è più cane dell'altro questo Michele Morrone che vedete in foto non è capace a recitare come neanche l'altra e questo film è un tale disastro ma poi è proprio diseducativo brutto moralmente recitato in 4-5 lingue diverse in polacco in italiano in inglese in tedesco un casino comunque un film inutile ma magari anche su questo ci farò una recensione un giorno o l'altro e dopo questo tour de force spero solo che disseppelliscano i miei resti vicino a una farmacia perché guardare tutti questi capolavori della bruttezza è stato abbastanza appunto un tour de force li ho recensiti abbastanza in modo un po' divertente per alleggerire la pillola ma credetemi sono dei veri dei film brutti questi film mi hanno fatto rischiare ci hanno fatto rischiare mi riferisco a tutti quelli che li hanno guardati di morire appunto per asfissia da eccessiva bruttezza l'unico pregio di questo fatto è che niente più ci disturberà neanche il soffiatore che usano i vicini che usano i vicini che usano i vicini